Buongiorno, volevo fare una domanda. Prego. Ma lei, che la stai da fare i cinque anni farmagia? Perché? È soltanto un cassiere. Un cassiere? Perché? Ma che cassiere? Io sono un farmacista e lo faccio a modo mio. A cavallo di quest'onda, spallottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista nella mischia, sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni. Tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri, iri, ari, oh, dentro all'acqua seguo il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, i squari non mi avranno mai. Quest'onda mai mi affonderà, shalalalala. Che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani ci vedrà. Sarà, sarà. Sarà elasticità. Quanto resisterai?